Tutto pronto per Agritour 2015 e per la partecipazione di ConfCommercio, quest'anno tra l'altro con delle interessanti novità. Sì, tutto pronto, siamo molto soddisfatti, parteciperemo anche quest'anno ad Agritour con il nostro padiglione Crescere Naturalmente, che è promosso da ConfCommercio in maniera particolare dalla nostra associazione agraria, che sono i rivenditori di prodotti fitosanitari per l'agricoltura. È un'iniziativa che noi facciamo insieme in collaborazione con la banca, che ci crediamo molto, perché chiaramente tende a promuovere proprio nel crescere naturalmente l'alimentazione, la sana alimentazione del nostro territorio. C'è anche la novità del patentino per chi deve fare l'orto? Sì, il sabato mattina alle 10.30 all'interno del padiglione convegni di Agritour faremo, come ConfCommercio insieme alle ASL, proprio un convegno dedicato al patentino per i fitosanitari, che poi è rivolto, come dico sempre io, alla gente comune, nel senso ai soggetti privati, gli obbisti anche, che in qualche modo nel coltivare l'orto di casa devono tastativamente prendere questo patentino e quindi noi come ConfCommercio abbiamo già ad oggi fornito il patentino, quindi hanno già fatto l'esame con l'ASL oltre 200 persone, altre 800 circa sono già in formazione, ma questo è un momento molto importante perché è giusto che anche da questo punto di vista si faccia cultura consapevole di come utilizzare questi prodotti. La banca, come ho già detto, è una banca del territorio e pertanto tutte quelle che sono le caratteristiche o quella che è la sostenibilità delle iniziative del territorio ci vedono sempre presenti, pertanto è una banca che non fa solo credito, ma ha un occhio lungo su quello che è la storia, la cultura, la tradizione, ma anche il valore della nostra banca della Val di Chiana e pertanto ci riesce bene a sostenere queste iniziative. Quest'anno siamo particolarmente soddisfatti perché oltre al settore alimentazione siamo presenti con il Comune di Cortona per presentare quello che è un po' anche la nostra iniziativa più legata alla sostenibilità da un punto di vista creditizio anche del settore agroalimentare, alimentare e l'ambiente con il progetto 3A. Pertanto siamo presenti in maniera massiccia quest'anno ad Agritura e questo ci fa veramente molto piacere perché vuol dire che ancora Banca Val di Chiana vuol sostenere e vuole essere presente anche in momenti non propriamente semplici proprio connotazione di banca del territorio, questa è la nostra forza. Agritur 2015 sarà anche l'occasione per la presentazione ad Arezzo del libro buono come ammenza scritto dal dottor Ciacci e che ha avuto già la sua presentazione ad Expo 2015. La pubblicazione è stata sostenuta da Banca Val di Chiana.